Con il concerto di domani sera al Teatro Verdi di Pordenone ore 21 si inaugura ufficialmente Estate in Città 2013, un'estate ricca di avvenimenti e qui che nonostante le difficoltà economiche siamo l'amministrazione comunale riuscita a realizzare. L'appuntamento di domani sera è un grande omaggio all'Operetta con l'orchestra Miteleuropa FWG che verrà diretta dal maestro Edi De Nadai e che ha sostanzialmente come cast attori e cantanti di grande e di qualità assoluta e quindi ci faranno rivivere l'atmosfera miteleuropea dell'Operetta. Per cui vi aspettiamo tutti numerosi e vi auguriamo a tutti un buon divertimento e una buona estate nonostante tutto.